eccoci con un nuovo video per la serie amica mi è stato chiesto di spiegare come funziona i dma slot e se c'era la possibilità di ottimizzare il loro utilizzo per andare un po più veloci beh l'ho detto tante volte scusate che vedete la mia feccina piccolina voglio dare più spazio ovviamente a queste informazioni il miglior modo in un sistema amica sarebbe quello di avere la fast ram perché ovviamente il processore non deve aspettare poi i chip custom o cedere cicli soprattutto perché la fast ram poi può accedere a tutti i cili disponibili a differenza della chip ram che ahimè è stata progettata un pochettino così eccola ma ovviamente è quello di ridurre il numero di istruzioni adesso vediamo come funziona amica quella che vedete ad esempio questo schermo verde e nero facciamo conto che il monitor la parte verde è la parte dove c'è la grafica e la parte nera che vedere è dove c'è praticamente il non visibile allora la parte nera viene chiamata blanking quella orizzontale adesso ve la evidenzio con il blu questa qui ok anzi sarebbe meglio dire questa qui e ovviamente quella di rimpetto dall'altra parte viene chiamato horizontal blanking praticamente in questa zona i bit plane non accedono alla memoria e quindi tutti i cicli sono disponibili per il processore il cop e il blit alcuni dma li hanno fixed praticamente sono già assegnati non possono diminuire nemmeno aumentare invece le zone nere sia questa superiore sopra e questa sotto solitamente quella sotto più quella sopra fino a che non raggiunge qua viene chiamato horizontal blanking cioè praticamente quando i bit plane non possono ancora una volta accedere la ram e lì tutti gli sdota ancora una volta sono disponibili ovviamente il vertical blanking è molto maggiore dell'orientata blanking infatti quando si raggiunge quella zona lì letteralmente l'accesso alla ram va anche tre volte più veloce perché tutti i cicli che dovrebbero essere assegnati e bit plane vengono assegnati agli altri device infatti la grafica ntsc 240 pixel in bassa risoluzione è leggermente più veloce di 256 pixel pal infatti anche il processore va a 716 invece che a 709 la versione pal quelle che vedete qui adesso ve lo evidenzio qua questa parte qui sono l'assegnazione degli slot per ogni riga di scansione praticamente questo succede ad ogni riga questa assegnazione e dato che un sistema palla abbiamo all'incirca 600 e passa righe abbiamo una banda passante di circa 7 mega al secondo calcolando che ci sono 226 slot disponibili a 16 bit calcolate che l'hardware mano dice ci sono le linee lunghe 226 linee lunghe 227 le linee lunghe 226 non ho capito perché questa spartizione ma a noi interessa poco basta ricordare che il pennello elettronico solca lo schermo da sinistra verso destra per il del blu sullo schermo e verso il basso fate conto che fosse come diciamo un bimero una corrente che passa e accende i pixel può avvenire a 50 volte al secondo 60 volte al secondo 120 volte al secondo 240 volte al secondo secondo del refresh del mondo ma nei sistemi amica avevamo 50 60 terza secondo se era ntsc oppa come vedete da questa prima parte ve la voglio far vedere vediamo un pochettino se riesco leggermente a diminuirla questo diminuisce un po troppo ok non c'è via di mezzo il paint andiamo qua vedete questa parte qui è una classica linea di raster prima che avviene praticamente la visualizzazione dei bitplane come vedete ci sono dma che sono già segnati e sono queste linee questi blocchettini qui ok che ovviamente vedete poi c'erano vicino quelli vuoti abbiamo i slot pari e gli slot dispari i primi quattro slot e quelli segnati sono per refresh della ram per mantenere i dati altrimenti andrebbero perse poi abbiamo il dma dei dischi sono altri tre slot poi abbiamo il dma audio sono altri quattro slot uno per ogni canale e poi abbiamo i dma degli sprite che sono essendo 8 sono 16 slot perché bisogna leggere due word per sprite per fare i due bitplane che contengono gli sprite questi slot indipendentemente dalla risoluzione video sono fissi cioè praticamente sono sempre attivabili ovviamente se non vengono utilizzati a parte il refresh della memoria vengono assegnati agli altri sistemi blit cop e cpu quindi conviene utilizzare e attivare quei dma soprattutto gli sprite e i dischi quando serve disattivarli quindi sopra e sotto la visualizzazione degli sprite possiamo avvantaggiarci di questi slot aggiuntivi una cosa è da tener conto volevo farla vedere qui vedete questa parte qua segnata in nero succede che quando si legge una word in più per lo scrolling o si va in overscan praticamente ci mangiamo vedete nero lo sprite numero 7 praticamente numero 8 e in pratica abbiamo soltanto sette sprite invece 8 purtroppo questo tra virgolette bug è mantenuto anche nella versione aga pur non avendo necessità di mangiare gli sprite addirittura ne mangiate più la versione aga non capisco perché la comoda non abbia fatto un fix a questo errore allora ognuno di questi slot abbiamo detto che sono a 16 bit nella amiga 3000 che ha la ram a 32 bit sono 32 bit nell'aga sono anche a 64 bit quindi quando andiamo aga 32 bit e amiga 3000 che ha la ram a 32 bit la chip stiamo parlando di 14 megabyte al secondo di trasferimento di massimo di picco con aga raggiungiamo l'incredibile cifra di 28 megabyte al secondo peccato che soltanto i bit plane possono utilizzare tutta questa banda passante e in parte anche gli sprite perché sono 64 bit quando abbiamo l'f mod a 2 o il double casse come volete chiamarlo se soltanto la comoda avesse dato la possibilità al cop e a blitter e anche ovviamente a paola di utilizzare tutto questo flusso enorme di dati ragazzi avremmo avuto quattro volte più potente la mica pur senza cambiandolo soltanto con gli accessi a 32 bit a 14 megahertz e con questo po po di banda passante e avremmo avuto un microprocessore 020 che non andava due volte più veloce ma quattro volte più veloci se avessero corretto questa stupidaggine di farlo accedere un ciclo ogni due adesso vediamo perché dopo questa parte iniziale che avviene durante l'horizontal blanking ok questa parte qui quindi questo accade sempre per ogni riga succede questa qua abbiamo la lettura dei dati per il dma delle bit plane dall'inizio alla fine per un massimo di otto slot per diciamo ogni di uno di questi blocchetti che vedete perché abbiamo otto slot perché in teoria anche lo cs e lcs potremmo avere otto bit plane però c'è un problema in quel caso non non avresti più cicli disponibili per cpu blitter e copper durante il raster durante il disegno dei bit plane quindi se potrebbero accedere soltanto horizontal blanking o vertical blanking quello che succede vedete qua la parte in nero con l'alta risoluzione e dato che ovviamente abbiamo soltanto otto slot al massimo possiamo avere al massimo quattro bit plane alta risoluzione perché di più non li può portare ecco perché aga ne può portare otto bit plane in tutte le risoluzioni perché ha quattro volte la banda passante se voi vedete sopra qui ci sono dei numeretti ok che non sono 123456 ma sono libero 462 libero 351 perché questa spartizione perché a secondo dei bit plane attivati il processore ha la possibilità veramente di avere il suo ciclo sempre disponibile o il blitter o il copper in questo modo si riesce a sfruttare al massimo la caratteristica del 68000 che può accedere a un ciclo ogni due infatti se io attivo il primo bit plane ho tutti gli altri liberi per processore se attivo il numero 2 ho ancora quelli liberi se attivo il numero 3 ho 1 libero 3 libero 2 se attivo il 4 vedete che io avrei l'1 libero il 5 e il 6 non sono attivati libero 3 libero 2 libero 4 libero 0 qui libero in pratica hanno utilizzato questo tipo di andare dei bit plane proprio per aiutare il processore il problema di questa spartizione che funziona anche è che durante quel periodo il 0 20 stava già arrivando quindi se avessero dato la possibilità di accedere a tutti i cicli a 68 mila non solo sarebbe andato più veloce ma addirittura 0 20 sarebbe andato più veloce così come 0 30 sulla ram chip a 16 bit calcolate che all'incirca se ve lo ricordate quando uscì l'amica 590 l'hard disk con le 2 mega di fast attaccabilizzato io l'avevo letteralmente 68 mila andava quasi il doppio più veloce proprio per questo motivo perché uno liberava i cicli per blitter e coppe e secondo esso stesso aveva più cicli disponibili se poi montavate un 0 20 un 0 30 era pazzesco io mi ricordo quando vidi la prima volta 0 30 50 mh all'opera con fa 18 intercepto o con i lightway 3d mio dio sembrava totalmente un altro processore era qualcosa di fenomenale 0 30 50 mhz io penso uno dei più riusciti microprocessori sulla faccia della terra per quanto era potente e veloce peccato questo utilizzo della ram ok questo è come funziona ram questo avviene per ogni linea di scansione durante adesso faccio durante questa fase qua verde ok invece durante qui questi sono totalmente liberi e quindi il processore va alla massima velocità se ci fate caso ci sono alcune chunky to planar che vengono chiamate in copy speed cioè vengono fatte durante l'horizontal vertical blanking che sono letteralmente tre volte più veloce per gli accessi alla ram proprio perché non hanno il penalty dei bit plane insomma una cosa davvero fenomenale l'unico processore che può utilizzare tutti i cicli è il blitter indipendentemente da quelli disponibili se vogliamo glieli possiamo dare tutte a disposizione ecco perché il blitter nonostante sia rimasto a 16 bit ea 7 mhz anche su haga è più veloce di un 0 30 50 mhz a fare quelle sue cose in alcuni compi infatti le chunky to planar vengono fatte blitter pc più sono più veloci che la sola cpu qualcuno ha detto che anche col 0 40 conviene utilizzare in parte il blitter per il semplice fatto che mentre il blitter lavora col 0 40 fai altro quindi hai questo parallelismo invece di essere sequenziali quindi ai più dispositivi che lavorano insieme l'ideale sarebbe quello di progettare un'area video che consenta di andare al massimo della velocità e avere il massimo degli slot disponibili con tutti i sistemi questo è il motivo per il quale io ad esempio ho scelto il fatto di utilizzare tra virgolette i miei demo giochi con un'area video ristretta la stessa scelta che hanno fatto con tarragon e la stessa azietta che hanno fatto con shadow of the beast che sono dei capolavori e possono avere tanti colori tanti bit plane e tanti oggetti su schermo proprio perché hanno una marea di dati disponibili vi ricordo che l'horizontal blanking più io ristringo lo schermo e più mi aumento di slot e quindi praticamente se io ho se io ad esempio guadagno uno slot qua che sono 8 cicli quindi 8 x 16 ok stiamo parlando di 256 bit quindi di queste word quindi se io levo 16 pixel all'incirca io tutti questi slot in più disponibili guardate quanti per il processore per il copper per il glitter se ne levo anche 32 o giù di lì guardate quanti ne ho a disposizione in pratica secondo me con ocs ed ecs a meno che della mica 3000 che ha la ram a 32 bit per avere il massimo delle prestazioni con tutti i sistemi un'area video di 256 pixel o poco più per 240 al massimo addirittura 220 ottenete veramente prestazioni favolose potete fare veramente quello che vi pare sui schermo ad allargare lo schermo calano i cicli proprio per questo motivo e ovviamente cala ovviamente le performance perché i sistemi devono attendere e quindi non c'è abbastanza cicli disponibili ora molti hanno analizzato i giochi con win way perché hanno messo un debugger che fa vedere il dma per i sistemi custom quindi chipset e quelli del processore quelli del brittano visto che nessun gioco riesce a raggiungere il cento per cento di efficienza perché è difficilissimo ci vuole tempo di edizione e bisogna investire questo è uno dei motivi perché gli sviluppatori non piaceva molto utilizzare amica prendevano il codice st lo portavano poi sti cavoli e poi abbiamo visto che succede e questo è il motivo perché amica con 7 megahertz anche consente di fare quelle prestazioni quando viene sfruttato alla grande quindi l'ideale sarebbe sempre utilizzare questi slot qui per il processore blitter copper mentre gli altri dma fanno il loro lavoro ricordatevi che in questo sistema ecco perché io dico è sempre meglio avere meno istruzioni perché ho meno cicli disponibili di volta in volta che vado avanti vedete qui e quindi l'istruzione non è che piove dal cielo anche sulla cache conviene sempre averne meno per un fatto di footprint praticamente di cambio di stato del processore prendi l'istruzione decodificala eseguila è tempo che impiega anche se in cache meno che la ram ma sempre tempo impiega invece un sistema addirittura senza cache come il 68000 ecco a mio avviso un errore che ha fatto la comodora non mette 64k di fast ram per il processore che bastava prendere la chip ram dedicarla solo al 68000 niente di più non è che c'è la ram speciale 226 slot tutti per il 68000 avremmo visto almeno almeno col processore dal 50 al 70 per cento in più di prestazioni un 20 25 per cento più su chip custom e con una meglio gestione della ram vabbè stiamo parlando di altra storia quindi è quando il processore deve prendere istruzione prima la deve prendere dalla ram e quindi già due slot se ne sono andati pari a dispari dopodiché se richiede un'altra istruzione per per fare l'ottimizzazione quindi un più istruzione ma più veloci devo ancora attendere altri slot sperando che siano disponibili perché se c'è il copper britter ne devo saltare altri e ecco fatto che la famosa ottimizzazione con le istruzioni più veloce se ne va bene dire perché magari se sulla carta mi prende quattro cicli effettivamente col fatto che devo aspettare tempo nell'aspettare gli altri dma va a finire 8 12 16 20 cicli quindi non conviene proprio è meglio avere meno istruzioni io ho fatto dei benchmark purtroppo è così che avere più istruzioni più veloci una delle istruzioni più potenti per 68000 da utilizzare veramente ininterrottamente è la move m sia punto word che punto l è più veloce di tante move.l anche se teoria sulla carta è più veloce l'altro metodo perché prendi l'istruzione dalla ram decodifica aspetta che il bus sia disponibile eseguila footprint poi il processore deve cambiare di stato esegui questa istruzione prende istruzione decodifica eseguila è più lenta soprattutto se avete tanti byte da muovere e io l'ho utilizzato facendo una routine per il britter ottimizzatissima che utilizzasse proprio la move.l era più veloce che le move separate ok cercare di innestare questa istruzione la esegue mentre esegue questa qui prendi l'istruzione decodifica aspetta i cicli forse con 0 60 con 0 40 se i dati sono in cache può andare ma con fino a 0 30 50 megahertz conviene sempre le istruzioni meno ce no è meglio è poi se metto tante istruzioni dentro nella bella perché le tabellizzo ancora ancora meglio però ripeto il modo per ottimizzare il massimo è meno istruzioni per la cpu il britter perché è più veloce perché ovviamente diciamo le istruzioni che sono eseguite in software dal processore il britter le fa in hard quindi a circuiteria quindi non deve accedere alla ram una volta che ha preso il dato tutta l'esecuzione è all'interno ecco perché oltre due volte più veloce il 68 mila su aga si vede benissimo la velocità perché il britter di tipo paveline quindi mentre prendo il dato una parte del britter lavora poi c'è il barra il shift quello che fa gli shift dei dati è gratis sempre non ha penalità cosa che invece fino al 0 30 anche per 0 40 c'è penalità ecco fatto che la velocità aumentata ecco perché comodo avrebbe dovuto puntare su un britter a 32 bit a 14 megahertz sarebbe stata una bomba unica poi una cosa importante quando si utilizza il britter con la cpu bisogna controllare bene se conviene attivare il famoso blitter nasty blitter cattivo praticamente attivando quella flag il blitter si ciuccia quasi tutti i cicli disponibili e ne lascia ben pochi alla cpu però così facendo c'è un problema che la cpu si ferma non può accedere alla ram e quindi l'esecuzione per il blitter si rallenta non posso fare la logica collisioni movimenti spostamento di dati e via discorrendo io ho notato che non sempre anzi quasi mai conviene attivare il blitter nasty soprattutto se avete un grosso flusso di dati con i bit plane e vuol demuovere tanta roba bisogna di volta in volta fare un benchmark e vedere come funziona molti hanno visto che attivando disattivando il blitter nasty soltanto durante la weight del britter e del corp pardon la weight del 68000 per aspettare che il blitter finisca lì c'è un vantaggio di un 3 5 per cento a favore del processore però anche lì non sempre perché ricordate che devo prendere l'istruzione per disattivare il blitter nasty lo attivarlo e poi disattivarlo quindi sono altri accessi alla memoria dipende sempre dal flusso dei dati da quello che ho visto il mio il massimo sarebbe eliminare la weight e cercare di sincronizzare le blittate con il codice per 68000 mascherarlo praticamente il blitter 68000 lavorano in parallelo e quando ha finito il blitter la cpu è pronta a dargli nuovi dati e andare avanti così molto meglio che lavorare così però purtroppo bisogna fare un'assunzione che il gioco lavori con quella cpu perché se monto una cpu più veloce può succedere il casino io ho visto che il blitter se la cava bene anche con un 0 30 50 con un 0 40 se la blittata una dimensione non eccessiva ce la fa stargli appresso un altro metodo per evitare la weight del blitter farlo fare al copper quindi passare il settaggio del blitter sul copper nella copper list il copper può attendere tranquillamente quando il copper attende non accede alla ram quindi a questi slot qui quelli bianchi e sono disponibili per la cpu e per il blitter quindi il copper copper weight non accedo al basso questo è fantastico l'unica cosa ovviamente che ho notato per aumentare l'overred ovviamente sul copper e sui cicli dma perché che cosa serve serve la cpu che setta il copper quindi devo accedere al basso della chip il copper che fa lavorare il blitter altro accesso alla chip quindi c'è un overred la cpu sul copper se io riesco a fare delle blittate con il copper avendo delle copper list precalcolate cambiando solo un puntatore con il copper jump allora è vantaggio se no conviene utilizzare l'interleaved bit plane praticamente il copper chiama una sola volta il blitter per 3 4 5 bit plane allora ricevo una convenienza ma se devo fare più blittate bisogna stare molto attenti perché c'è il rischio di aumentare il flusso sui dati e di rubare spazio alla cpu e al blitter stesso bisogna ancora una volta fare dei test allora lì uno può vedere caso per caso se conviene utilizzarlo la mia esperienza dice che con le blittate interleaved il copper comincia a assumere una certa appetibilità comincia ad avvantaggiarsene su aga conviene utilizzarlo sempre perché tanta è quella banda passante che il processore libero di fare altro quindi si precalcolano parecchie copper list e via poi se calcoliamo che ad esempio la move sul blitt size ovvero sia quella istruzione su quel registro del blitter che fa partire il blitter è precalcolabile sulla copper list invece sulla cpu dobbiamo prendere il dato dalla ram e metterlo in ram quella è molto più accelerata e tante altre ovviamente piccolezze che si possono far vedere magari farò vedere del codice che ci ho lavorato è anche un'ottimizzazione nei primi video che ho fatto vedere per il gioco e ho fatto lo scrolling verticale ho fatto vedere come l'avrei ottimizzato con l'area blitter l'area cpu questo è quanto possiamo fare per ottimizzare al massimo l'utilizzo del dma ma ci vogliono tanti test per vedere dove noi abbiamo un buco e come possiamo riempire con il buco magari mettendo più lavoro sul cpu oppure più lavoro sul blitter oppure più lavoro sul copper non è poi questo funziona sempre così non abbiamo la forza bruta a disposizione con magari le scade video moderne tanta banda passante questi se ne fottono la spregano come nulla qui dobbiamo stare attenti a calcolare tutto a far lavorare tutto bene e ovviamente ad attivare disattivare i dma quando servono vi faccio un esempio semplice fate conto io lo spray oppure gli sprite che viaggiano in questa zona come vedete sopra e sotto adesso le faccio vedere in rosso qui gli sprite non lavorano e quindi che cosa mi conviene fare con una copper list disattivare il dma dello sprite da modo che così tutti questi cicli qua adesso vedete in rosso vanno a finire al copper a blitter e alla cpu questo è un semplice metodo per tirar fuori un pochettino più di cicli anche quello ad esempio di come vi ho fatto vedere nei giochi anzi lo vedrete con elf mania e con altri quello di avere dei quadri che siano un po' paraculi come bit plane allora fate conto che io qui sopra magari e qui sotto posso diminuire il numero di bit plane utilizzati effettivamente perché con il copre posso creare più colori e lasciare il glosso dei colori nella parte centrale dove poi anche dove gli occhi concentrano maggiormente l'attenzione mentre si gioca la parte superiore inferiore ai lati e diciamo gli occhi sfumano è un po il trucco che hanno utilizzato per varia borsche rating per le per le cpu moderne lo shading più corposo nella parte centrale quello sopra e sotto a destra possiamo utilizzare uscite un pochettino più perché durante il movimento e proprio perché non abbiamo il focus degli occhi sul lato possiamo accelerare quindi diminuendo sia sopra dove l'ha messo sto puntato lì mamma mia sto programma è veramente di merda la microsoft si imparerà mai a fare le cose quindi se io riesco a ridurre bit plane qui bit plane qui e tocca vedere se a volte mi conviene io l'ho fatto con il coppe per old tower qui e qui nonostante dovessi fare diverse coppe per ogni riga mi ritrovo che in una situazione del genere posso liberare tantissimi slot quindi posso accelerare le operazioni magari raggiungere quei fatidici 60 fps che magari prima non riuscivo a raggiungere perché avevo pochi slot non perché avevo troppa roba disponibile io ho visto diversi miei temi che facevo ai tempi di amica raggiungevo più velocità semplicemente restringendo l'area video o dando pochi più cicli agli altri sistemi più che diminuire la grandezza dei bob o numero di colori questo è quanto possiamo fare noi per divertirci e per tirar fuori il massimo calcolando che in questi qua di slot non posso toccarli tranne l'audio quando è disattivato però questi qua sono fissi questi quattro questi sono disponibili quando non utilizzo il dma disc e questi quando l'audio non è utilizzato che durante un gioco sempre utilizzato quindi non posso fare affidamento su questi ma su gli altri questa è quanto si può fare per ottimizzare l'accesso ai cicli dma di amica e quanto possiamo ovviamente non fare per ottimizzare ovviamente i bit plane o uno o l'altro dobbiamo mediale su ocs e cs aria video più piccola su aga aria video più larga tanto o quattro volte tanto la banda passante e devo dare la precedenza ai sistemi che sono più veloci nel fare determinati compiti quindi ad esempio i bob continua a farli con i bitter perché ha il barrel shift più veloce perché può accedere a tutti i cicli a differenza del 020 e quindi va più veloce innegabilmente ripristino dell'area vita video probabilmente mi conviene farlo insieme bob aria video ripristinata con il 020 utilizzando la move m che è velocissima perché con una istruzione cancello l'area oppure con istruzione prendono i dati della memoria con altre istruzioni di due soli istruzioni lo metto dentro invece di fare move.l move.l che è un disastro questo è più veloce di quello che ci hanno insegnato nell'ottimizzazione amica occhio che non è tutto oro quello che luccica e mi raccomando la cosa importante di volta in volta testate testate perché non possiamo dire ok faccio questo faccio quello calcolando che alcune linee guida che vi ho dato a riavito più piccola variable sheet rating sopra e di lato sono sempre non prosulta vorrei dire una parola di cautela nel fatto di utilizzare i bob calcolate che quando facciamo questa spartizione di dma e quando calcoliamo la se vogliamo andare a 25 30 50 fps il gioco dobbiamo sempre calcolare il worst case scenario come dicono gli anglosassimo verosia la peggior condizione quindi metto tutti i bob su schermo con la logica e con le collisioni quanti ne posso muovere e quello è il massimo che io possa andare quando si saranno i casi dove avrò meno bob non posso fare affidamento nel fare più cose perché se mi entro su schermo il numero massimo sotto i 50 fps quindi non posso fare queste assunzioni del tipo ok mi faccio entrare meno bob e lo manda a 60 ecco perché in alcuni giochi coin hop compresi e console comprese tipo meta slag va a 60 fps poi si sono fatti prendere la mano quando c'è un fracasso di oggetti va a 25 fps all'anno programmato male perché si sono fatti prendere la mano i programmatori e non hanno fatto un lock a 60 fps indipendentemente dal numero degli oggetti su schermo calcolando sempre il massimo è mal programmato ve lo posso garantire io infatti l'ho visto noi l'abbiamo visto quando abbiamo fatto ad avezzano quando il programmatore professionista steel savior su alcune schede video non potevamo mandare 60 fps perché la maggior parte delle volte c'era però come arrivava nel focus dell'azione quindi abbiamo dato durante il gioco la possibilità di mandarlo a 30 o 25 fps così frame rate locato play abilità sempre garantita anche nella peggior condizione non va mai sotto quel frame rate se hai la scheda video più potente fai il lock a 60 fps quindi quando vedo frame rate che fa un drop il programmatore dovrebbe stare un po più attenti e fare un lock indipendentemente dal fatto che ho pochi oggetti su schermo o più oggetti spero che questa puntata sia piaciuta ancora una volta un pochettino lunga un po tecnica però era quello che potevamo fare lasciate i suggerimenti e commenti perché sono altre cose che posso spiegare le faccio volentieri e continuiamo a divertirci con questa meravigliosa macchina ma soprattutto con questa meravigliosa d'estate che spero ci stupisca ancora buona serata d'estate lasciate un like condividete iscrivetevi al prossimo video